La persona che si sta avvicinando in questo vialetto sarebbe il degno protagonista di The Wolf of Miami. La storia che vi voglio raccontare oggi è incredibile, nata grazie a un viaggio con un amico speciale, poi la scoperta dell'America con tutte le sue luci e le sue ombre, alti, bassi, come normale che sia nella vita, anche se il punto più basso qui è stato la deportazione e poi tanto altro, lavoro, famiglia, amore, eccetera. Alla fine di questo video mi direte se questa è una storia da sogno americano o qualcos'altro. Ciao, sono Chris, welcome, benvenuti in questo nuovo video. La storia di oggi è super e vi presento Alessandro. Ciao Ale. Ciao Chris, buongiorno. Ciao. Un piacere, grazie a te. Rompiamo il ghiaccio subito. Dove siamo? Qui siamo nel cuore di South Coral Gable, è una delle zone residenziali di Miami. Famiglie, molto tranquillo, non passa una macchina. Dove i bambini possono giocare per strada e mi sono trasferito qui da un annetto dopo aver passato la maggior parte della mia vita a Miami Beach. Hai messo su famiglia? Ho messo su famiglia. Ok, adesso iniziamo. Partiamo dall'inizio, facciamola facile. Quando, come, perché, ma soprattutto quali erano le tue aspettative in quel momento? Allora, quando, 2007, quando appunto Bellinelli è venuto a giocare in NBA. Avevo fatto una promessa quando eravamo più piccoli che se un giorno avesse intrapreso quella carriera lo avrei seguito. C'è un successo che l'hanno chiamato dicendo che era elegibile per l'NBA e quindi mi ha detto adesso mantieni la promessa. E siete andati negli stati? Prima volta a Las Vegas per fare gli allenamenti, quindi a Chicago come prima città come scalo. E poi successivamente a settembre siamo tornati insieme, siamo arrivati a San Francisco. Perfetto, quindi siamo nel 2007, tu lasci l'Italia, Bologna se non sbaglio, zona lì. Sì, ha 26 anni. Con il tuo miglior amico per realizzare il suo sogno in America. Corretto. Perfetto, com'eri? Che aspettativi avevi? Che idee avevi? Non parlavo una parola d'inglese, l'avevo studiato a scuola ma è tutta un'altra cosa quando ti devi interagire con americani, con l'ocento americano. E inizia la mia avventura da solo perché a quel punto Marco va a fare il training camp e mi abbandona per 16 giorni a Oakland in California senza parlare una parola d'inglese in un hotel dove non sapevo a momenti quasi come ordinarmi da mangiare. Quali erano le aspettative? Le aspettative? Le mie aspettative erano quelle di vivere questa avventura un po' per quello che poteva darmi, imparare un po' l'inglese e vivere la giornata. Infatti ho passato il primo anno praticamente facendo da dama di compagnia Marco, lo accompagnavo agli allenamenti ed ero praticamente sempre con lui. Quindi in sostanza tu lo vivevi come una sorta di anno sabbatico per te? Correttamente, proprio un anno sabbatico ovviamente con la fortuna di entrare negli Stati Uniti da una porta abbastanza importante. Bene, dopo un po' hai cominciato a vedere l'America, a scoprirla, le classiche luci, ombre, come funziona, come non funziona, immagino profondamente diversa da dove eri abituato tu. Quando è successa questa cosa e cosa hai visto? Sinceramente la squadra dei Godest Warriors, che adesso fa base a San Francisco, faceva base a Oakland, che al tempo, nel 2007, era una delle città più pericolose degli Stati Uniti. Parlavano di tre omicidi a settimana e quindi avevo questo terrore, come guardi nei film americani. Si, si vedevano macchine della polizia, ambulanze. Io almeno avevo un po' di paura a girare da solo, anche perché non sapendo comunicare con nessuno. E che idea ti stavi facendo dell'America e quindi sono brutta? Che era come quella nei film. Tutta questa cosa un po' caotica, queste persone che quando ti parlano io sinceramente capivo molto poco. Era proprio il suono che non riuscivo a percepire. Quindi guardando cartoni animati e soprattutto film tipo Ritorno al Futuro, che avrò visto 200 volte, in inglese con i sottotitoli, sapendo già in italiano quello che si dicevano gli attori, era molto semplice, era più semplice capire la lingua. Ok, quindi capisco che il bello di fare un'esperienza con il miglior amico, oltretutto in un ambiente sportivo molto particolare, soprattutto negli States, a un certo punto avrei avuto quello switch, no? Dici, ok, però io sai cos'è? Non faccio solo il mio anno sabbatico, rimango. Quando è successo, ma soprattutto perché è successo? Dopo il primo anno, dopo la prima stagione MBA, torniamo in Italia, facciamo l'estate in Italia e avevo capito che non potevo continuare a non fare un tubo. È la terra delle opportunità, perché ovviamente con una scuola italiana noi secondo me abbiamo una marcia in più a livello di intelligenza, come vediamo le cose, i business che facciamo. Una settimana a New York e una settimana a Miami. A New York un freddo bestia, un tipo di vita molto frenetica e ovviamente per un italiano con uno scarso uso del linguaggio, dopo un anno già parlavo molto meglio, ho fatto una scuola d'inglese e quindi me la cavavo. New York, città molto frenetica, Miami, come puoi vedere, il paradiso. Molto tranquillo, le persone qui lavorano con un ritmo molto più lento, allora ho capito che se avessi dovuto fare una scelta di lasciare Marco, nel senso di trasferirmi per conto mio, avrei provato a Miami. Qui, grazie ad un amico, un giornalista che ho conosciuto a San Francisco, dalla Gazzetta dello Sport, mi ha presentato un ragazzo italiano che faceva, che lavorava nell'immobiliare, che mi ha fatto questa offerta di dirmi, guarda il mio assistente se ne va, se vuoi venire tu per sei mesi mi puoi dare una mano, ti do una Vespa, uno scooter e mi dai una mano. Ovviamente non potendo lavorare era una mano più per imparare un mestiere che altro e quindi ho deciso di tornare a San Francisco a fare armi e bagagli e trasferirmi e fare questa prova a Miami. Ok, hai aperto un punto interessante. Ovviamente ci tengo a dirla questa cosa, erano anni diversi, parliamo del 2007-2008, cioè l'immigrazione, la dogana, i visti, erano tutte robe... Molto più facili. Esatto, non voglio dire facilissime, ma molto diverse rispetto ad essi. Banalmente era anche più semplice passare da un visto all'altro, farli... Fare il cambio di status. Esatto, ok. Sì, era più facile, poi penso che tutto sia cambiato dopo l'attentato alla maratona di Boston. Ok, eh. Perché se noi, ti dico la verità, come italiani abbiamo sempre una corsia preferenziale. Esempio, un visto B1-B2, che io ho fatto ovviamente, a noi ci dura 10 anni, in altri paesi dura solo un anno e ogni anno lo devi rinnovare. Il nostro non è un brutto passaporto quasi. Il nostro è un buonissimo passaporto, quindi abbiamo già un vantaggio in più di altri cittadini di altri paesi. Ok, perfetto. Perfetto, quindi tu sei entrato nel mondo del lavoro con il real estate, diciamo. Con l'immobiliare. Ok, che non era legato, cioè tu non sapevi assolutamente niente di questo? No, io in Italia mi occupavo di altro, sono un perito chimico, quindi ho lavorato un po' in un laboratorio chimico e poi dopo ho lavorato nel mondo dell'abbigliamento. Oggi sei ancora in questo settore? Sono ancora nel settore dell'immobiliare, anche se ho preso qualche sbandata, sbandata nel senso buono, nel senso che adesso sta facendo una start-up sul cibo congelato dell'Italia, ad esempio portare il cibo congelato e sono anche tregio di una compagnia di lusso, di mobili di arredamenti di lusso. Ok, non ho avuto solo una fortuna di un'opportunità iniziale, ne ho viste e colte anche altre nel corso degli anni. Sono riuscito a trovarmi nel posto giusto, al momento giusto e a cogliere l'occasione. La prima occasione era quella, secondo me, di aver conosciuto un italiano che mi ha preso in simpatia, mi ha dato una mano e mi ha aiutato e mi ha fatto partire praticamente dal basso. Non esisteva Airbnb, quindi la mia prima mansione era anche quella, tramite gli amici in comune in Italia, di fare affitti per i vacanzieri. E quello comportava controllare le pulizie, aprire le porte alle donne delle pulizie. Quindi un lavoro che è partito dal basso. Sì, proprio dal basso, perché secondo me il segreto del successo per imparare qualsiasi tipo di mestiere è partire dal basso. Sia che uno voglia aprire un ristorante o fare come ho fatto io, che adesso ho una società di real estate a Miami. Ho preso la licenza anche a New York, sono broker a New York. Non sono riuscito a fare l'esame in California per il Covid. Però tutto parte da sapere come si pulisce un appartamento, come magari devi aggiustare un toilet, che sembra follia. Che però ti fa capire, quando poi interagisci con le manovalanze qui a Miami, quello che c'è bisogno nell'appartamento. Che errori hai fatto che secondo te sono stati dovuti un po' a errori che hai fatto tu perché non conoscevi, non avevi studiato quella cosa lì, non eri preparato o altre cose? L'errore più grande forse è quello di non essermi preparato a questo salto, a questo balzo, da andare a non fare il tubo, di prendermi da questo anno sabbatico, a dire ok, prendo, vado a Miami e inizio a cercare di fare qualcosa. Anche perché qui il lavoro ce n'è ma devi lavorare. Il lavoro ce n'è, devi lavorare e comunque è più facile che altri posti. Miami è una città più facile, però comunque zero preparazione. Quindi su chi va là senza averne un'idea, diciamo, di quel mestiere. Un altro errore che però non considero un errore ma una lezione è magari quella di nel corso degli anni interagire con personaggi che magari, non dico che mi hanno fregato, però che non erano molto trasparenti e quindi bisogna sempre stare all'occhio. Sì esatto, quindi è un errore non proprio di venire negli Stati Uniti ma un errore più. A proposito di questa cosa, questa è una mia esperienza personale e vorrei sentirla tua. Cioè prima hai citato che il tuo percorso è iniziato anche grazie a un italiano. Che idea ti sei fatto degli italiani in America? Ovviamente non quelli vacanzieri, no? Sì, allora gli italiani noi siamo, e mi ci metto anch'io, una comunità che io lo vedo anche nei gruppi Facebook italiani a Miami, italiani, siamo un po', non voglio dire invidiosi, però quando uno fa una domanda ad un italiano cerca sempre di scoraggiarti. Gli italiani secondo me sono brava gente ma anche un po', non voglio dire rosiconi, però li vedo un po', non siamo una comunità che ci aiutiamo proprio al massimo. Ecco poi io quello che ho visto, sono d'accordo con te, anzi io sono sempre molto, cioè fa ridere, in America quando ci vivi dovresti avvicinarti di più alle persone che sono più vicini a te, quindi quelli che arrivano dal stesso paese, dalla stessa città, invece qui è il contrario, no? Cioè io guardo molto più con sospetto gli italiani in America rispetto agli americani che non conosco. Sì, poi nel corso degli anni ovviamente sono uscite storie anche sui giornali italiani, di italiani che hanno fatto, non voglio dire truffe, perché non accusiamo nessuno di truffa, però delle mosse poco chiare e quindi ovviamente è che secondo me noi ce l'abbiamo nel nostro DNA. Sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè il DNA dell'italiano è quello di essere il più furbo, di avere un guadagno in qualcosa, di avere sempre un guadagno, di fare sempre qualcosa per avere un ritorno. Non siamo proprio genuini, genuini, ma questo ci ha fatto di noi, forse il popolo, non voglio dire il più furbo del mondo. Noi siamo forti a livelli di ingegnero perché siamo furbi, perché troviamo le soluzioni a ogni problema. È vero, questo è un plus in quello che dicevi tu, no? Arrivi in un paese come questo, vedi delle opportunità e sai come cavartela e come fare le robe, però spesso tanti sono borderline e alcuni, ma sì dai vabbè, anche se faccio una piccola deviazione. Cercano molto il vantaggio che magari altre persone di altri paesi non lo vedono neanche. Un discorso visti, parto da una situazione che mi hai raccontato difficile, sei stato deportato. Sì, io ho fatto tutto il percorso prendendo più o meno tutti i visti che potevo prendere per poter rimanere qui. Quindi arrivando come turista tre mesi, poi ho preso un visto F1 da studente, insieme al visto F1 ho preso il B1, B2 che ovviamente ti dà la possibilità di stare sei mesi da turista e da investitore. Sono stato sponsorizzato da Giovanni e tu conosci bene, è il motivo per cui ci siamo conosciuti. E dopo ho preso la green card e il passaporto perché mia moglie che io proprio mi sono messo in testa che dovevo rimanere qui e ci sono rimasto. La deportazione, chiamiamola deportazione, in poche parole c'è stato un errore burocratico aprendo una società, un LLC che qualsiasi turista può aprire normalmente. Se sei studente, sottovisto da studente, ti serve un foglio, un foglio che il mio commercialista italiano mi aveva detto che avrei dovuto fare e quando lui ha aperto la mia società, mi ha aiutato per la società, non l'ha fatto il foglio. E quindi nei miei vari dentro fuori dagli Stati Uniti, quando ovviamente vedendo il mio passaporto che è stato parecchio tempo negli Stati Uniti, hanno cominciato ad investigare, a trovare un motivo per non farmi rientrare. E hanno trovato questa società aperta durante la mia permanenza come studente, senza questa autorizzazione federale e quindi la pena, tra virgolette, non era una multa ma era l'annullamento dell'esta. Non avevo più i visti stampati nel passaporto, quindi la pra si dice tornatene in Italia, vai al tuo consolato americano, fai la richiesta dei visti e qui quando perdi un visto non te lo ristampano, devi rifare tutto da capo. Quindi se ho visto B1, B2 è semplice rifarlo, se ho visto di lavoro devi fare tutta la prassi di sei mesi di attesa, otto mesi di attesa, un anno di attesa. Sono curioso però, allora, anche a me è capitato, arrivi in aeroporto e ti portano in uno stanzino per fare... Però per fortuna, incrociamo le dita, non mi è mai successa la fase 2, lì come funziona, quando ti deportano? Loro ti guardano e ti dicono, eh, con il sorriso, come se gli facessi un torto tu essere nel loro paese, con il sorriso sulle labbra, ah guarda, saponaro, oggi non puoi entrare. E io proprio super naif, avevo fatto un weekend all'isola Gram-Kaiman, che è un'ora da qui, quindi avevo due mutande, due costume, due magliette nel mio trolley. E ho detto, va bene, dai, adesso vado a casa, faccio le valigie e torno in Italia. E questo Emanuele ti fa, no, no, tu adesso rimani qui con noi e ti cerchiamo il prossimo volo per le Gram-Kaiman, perché loro ti rispediscono nel paese da dove arrivi, non se tu sei italiano ti rispedisci in Italia, no, tu arrivi dalle Gram-Kaiman, il governo ti paga il volo per tornare alle Gram-Kaiman e io ovviamente, dalle Gram-Kaiman sarei stato bloccato, perché tutti gli scali per andare in Italia erano negli Stati Uniti o forse in Messico, quindi tiro fuori la mia carta di credito e un ufficiale va al bancone, penso, dell'Iberia e mi fa, sì, dell'Iberia, perché all'Italia, a tempo all'Italia non aveva voglio, non so cosa era successo perché non posso usare il cellulare, non potevi fare nulla, quindi questi ti prendono la carta di credito e sono andati a farmi il biglietto però per il giorno dopo, quindi io e mo' che si fa, mi hanno aperto una cella e mi hanno messo, fa accomodati, lì mi hanno messo dentro una cella aperta con una brandina di tela e c'erano due gradi sotto lo zero, quindi tu sai le aree condizionate qui negli Stati Uniti, area condizionata freddissima, io avevo due cellulari, al tempo avevo ancora il cellulare italiano, quindi uno me l'avevano preso loro e l'altro me lo sono tenuto nascosto e messaggiavo alla mia famiglia, ai miei amici raccontando quello che era successo. Ti faccio l'ultima domanda di questo tema, ok, ci sono tantissime persone di là degli schermi che sono innamorate, folli, hanno dei progetti, dei sogni per venire negli Stati Uniti, tu Alessandro stesso di 17 anni fa, oggi cosa faresti, quindi cosa consiglieresti a un ragazzo? Con la mia esperienza che ho avuto, secondo me volere è potere, io me lo sono messo in testa e ho trovato il modo, sono stato fortunato, ho avuto diversi treni dove sono salito, arrivando col treno di Bellinelli che è stato un grandissimo vantaggio, però successivamente questo amico Fabio che mi ha dato l'input e poi Giovanni che è quello che ha dato un po' la svolta alla mia carriera, perché Giovanni è un imprenditore vero e quindi mi ha dato la possibilità, ho avuto la fortuna di avere il visto, però ovviamente noi abbiamo il vantaggio che volendo, uno può partire facendo un visto B1 o B2, deve avere un po' di disponibilità finanziaria, devi fare network poi devi riconoscere. Non puoi venire qui sperando di lavorare il giorno 2 perché è comunque illegale, adesso stanno dando molti giri di vite, vogliono avere il social security, vogliono avere dei certificati, quindi anche cominciare a lavorare in un ristorante non è più come semplice come 15 anni fa, però il visto B1, B2 e magari successivamente un visto da studente per una normalissima scuola d'inglese e ti può aiutare a farti capire che strada intraprendere. Tu poi arrivi qui, conosci, fai network, capisci come funziona, capisci che qualità hai da dare a questo paese. E poi ovviamente se ti comporti bene, se sei una persona che ha dei valori, che sei una persona sveglia in gamba, sicuramente incrocerai una strada con qualcuno che magari può scommettere in te, come ha fatto esattamente Giovanni con me, che ti può dare una possibilità. Quindi il messaggio è difficile, difficilissimo, ma con pazienza, intelligenza, voglia e determinazione. Soprattutto io, come tu sai, quando sono arrivato qui, appena trasferito a Miami, ho vissuto i primi nove giorni in un appartamento senza la luce elettrica. Sì, sì. Bene, quindi ora domanda un po' tua, Alessandro. Chi è oggi Alessandro e soprattutto sei soddisfatto, orgoglioso, arrabbiato, qualsiasi cosa del tuo percorso oggi? Ovviamente non parlo anche, no, parlo anche del discorso familiare, perché giustamente hai costruito una bella famiglia. Cioè chi sei e sei soddisfatto? Sì, oggi Alessandro è un papà e quindi è la cosa secondo me forse più importante, che ho aspettato un po' più della media, però in questo paese bisogna essere pronti mentalmente e finanziariamente. Sull'ambito lavorativo mi sento soddisfatto, ovviamente uno può dire c'è sempre da migliorarsi, però anche c'è anche da dire che bisogna anche un po' volersi la vita e non voler troppo, perché si vive una volta sole, quindi non è che uno deve ammazzarsi di lavoro, come hai visto più o meno da quando mi hai conosciuto, che noi ci siamo conosciuti quando? Eh, 7-8 anni fa. ero un'altra persona, lavoravo ancora per Giovanni e adesso ovviamente ho fatto un'escalation importante della mia carriera e quindi sono, posso dirmi contento. Il sogno è quello di guadagnare negli Stati Uniti e venirmi a godere la vita in Italia, perché secondo me... Qualità intendi della vita, no? Penso che Miami sia il posto con la qualità della vita più alta al mondo, nel senso che le infrastrutture, adesso i ristoranti, io come ben sai, anche quando ho abbandonato l'avventura con Belinelli, gli anni successivi sono sempre andato nella squadra dove lui andava, quindi ho visto anch'io come te parecchie città, non come te, un po' meno, dove andava a giocare Marco, quindi Chicago, New Orleans, Toronto, Sacramento, San Antonio. Mi sono sempre spostato con lui all'inizio per dargli una mano, a trovare casa, a fare tutto il setup. Miami è quello dove si vive meglio, però il posto più bello del mondo è l'Italia. La moglie, che è italiana, però è radicata qui negli Stati Uniti, lei la vede come te? Cioè, a lei piacerebbe? Lei forse un po' meno, proprio perché adesso come madre è il percorso delle scuole, è comunque importantissimo, quindi non possiamo più, prima avevamo solo due cani, adesso abbiamo due cani e un bambino, prendere i cani, andare sull'aereo e stare lontano, lei fa il mio stesso lavoro, quindi ci possiamo anche autogestire, lei lavora più per i costruttori, io lavoro più per il resale, e quindi la mia idea è quella di un giorno poter tornare in Italia senza la preoccupazione di tornare in Italia. Ecco, a proposito di questa cosa, cioè, Slega, Alessandro, Stati Uniti, cosa saresti diventato, ovviamente virgolettato, fossi rimasto in Italia, avessi percorso la tua via iniziale, la prima strada? Se fossi rimasto nel laboratorio chimico, io erano i due titolari del laboratorio e io, oggi questo laboratorio ha 30 dipendenti, 6-7 sedi e io, scherzando, parlando con l'ex titolare, ho chiesto, ma a oggi, dopo 25-20 anni di lavoro qui in questo laboratorio, quanto sarebbe il mio stipendio? E lui si è messo a ridere a fare, secondo me arriveresti quasi ai 2.800 euro, con la tredicesima. Che tu dici, in Italia è un numerone, capisco che la vita qua dici un paio di giorni, tre giorni, 3.000 forse ci fai due giorni. Ovviamente esasperando, però capisco il concetto. Se tu calcoli i soldi del mutuo, le macchine, la barca, tutto quello che costa la vita, lo dividi per 31, è più o meno quello che costa un paio di giorni. Quindi, a questo punto arrivo un po' nel... Ok, ti sei fatto un'idea enorme degli Stati Uniti, a parte i 17 anni, hai girato, hai girato anche per qualcosa che non era tuo, quindi l'hai visto come da esterno. Era sul sedile del passeggero. No, e quindi hai avuto tutto il tempo per analizzare le città, come giustamente dicevi, capiscono Sacramento, Chicago, hanno una qualità di vita diversa, però oggi come oggi, che idea ti sei fatta degli Stati Uniti in termini di pro, contro e soprattutto come si posiziona l'Italia in queste cose? Il pro è sicuramente la meritocrazia. Qui vieni negli Stati Uniti, ti dai da fare, a testa bassa, vieni qui con una valigia dall'Italia e uno, anche per ipotesi, può mettersi a fare le pulizie. Per pulire un appartamento usato da Airbnb per un vacanziere, le donne delle pulizie per stare dentro forse un'ora e mezza vogliono 100 dollari, fai 4 appartamenti o forse di più, fai 4 appartamenti al giorno, per 25 giorni fai i tuoi conti, fai 8.000 dollari al mese. Sì, questo è vero. Con delle spese minime, una scoppa, no? In Italia però non la faresti mai quella carriera, no? Cioè qui, adesso si rideve scherzava qualche settimana fa, a Palm Beach assumono le donne delle pulizie a 150.000 dollari l'anno, no? Che fino a qualche anno fa era lo stipendio di un manager di un buon livello di un'azienda, no? Esatto, sempre il solito discorso. Qui ti dà l'opportunità che se hai voglia di lavorare e lavori bene, ti apri tutte le strade che vuoi. Qui abbiamo un... Ci mancano le persone, diciamo, che mantengono la parola, quindi in tutti i tipi di lavori, l'idraulico, l'elettricista, il tuttofare, ti dice, vengo alle 9, si presentano alle 11. Quindi qui a Miami basta rispondere al telefono dalle 8.30 di mattina in poi e riuscire a rispettare gli orari e cominciare un lavoro e terminare. Sei già più bravo degli altri, già così. Già, io a tutti scherzando, vuoi fare i soldi a Miami? Vieni a Miami, ti compri un cellulare, ti metti a fare qualcosa, sia il Movers, che sarebbe i traslochi. Lavori semplici, dove comunque puoi guadagnare delle belle cifre, perché qui non esiste la donna di servizio a 4, 5, 8 euro all'ora, come da noi, che chiami una donna a fare le pulizie, sta 3 ore e gli dai 30 euro. Qui non si presentano per 30 euro, qui il minimo sono almeno 100 euro, 100 dollari. Stai sfatando un po' il mito, che gira soprattutto sul web, vieni e apri qualcosa a livello ristorazione, fai il cameriere, invece no, cioè riparti da quello che in Italia siamo sempre stati molto bravi, a fare magari dei lavori specializzati, idraulico, muratore, eccetera, ovviamente devi trovare il modo di arrivarci, perché non è facile dire... Quella è la parte veramente difficile, dato che devi staccarti dalla realtà italiana, noi siamo famosi per essere mammoni, ci sta che noi siamo quelli con l'età più avanzata, uscire da casa, siamo molto legati a amici, parenti, io lo ero però, per forza di cose, uno si cambia, mi sono fatto nuovi amici qui, e devi avere la forza di volontà di venire e trovare il modo per poter rimanere. Tutti chiedono la sponsorizzazione, per me oggi se mi scrive Marco dall'Italia e mi dice, Ale, ma posso venire a lavorare per te, mi trovi uno sponsor, mi sponsorizzi, mi viene difficile, perché come faccio a scommettere su una persona che non conosco? Invece magari sei qui con il tuo visto B1, B2 o il visto F1 da studente per una scuola semplicissima per imparare l'inglese, che ti chiede di frequentare magari 4 ore al giorno dalle 10 alle 2, dai l'esempio che ti stai sbattendo per qualcosa, quindi uno magari è più propenso a darti fiducia, a vedere qualità. Devi un po' arrangiarti, devi avere qualche soldo, non puoi venire proprio come uno spiantato, perché qui costa tantissimo, tu hai visto, una pizza, se andiamo a mangiare due pizze, due Coca-Cola sono 80 dollari, perché quando aggiungi la mancia e le tasse, quindi il costo della vita è altissimo, addirittura c'è stato un articolo che il 75% degli abitanti di Miami hanno detto che la vita è diventata inaffordabile, come si dice, inaffordabile, inaccessibile, inaccessibile, troppo cara per il 75% delle persone. Invece ti chiedo l'altra parte per chiudere il discorso Stati Uniti, la cosa invece che non ti piace, che è proprio pessima negli Stati Uniti. Allora, mi dà un po' fastidio l'ambito un po' del razzismo e questa grande differenza fra la cultura afroamericana e non dico che gli afroamericani non siano razzisti, lo sono magari, sono tutti razzisti qui, c'è razzismo contro i sudamericani, contro gli italiani, contro gli afroamericani, quindi questa cosa qui è un po' è ancora in voga che uno pensa che siano cose passate e quindi è una cosa che non è secondo me un granché, però penso, non so se anche in Italia, io in Italia veramente ci vengo in vacanza una volta all'anno quindi non non seguo tantissimo. Però negli Stati Uniti ad esempio Miami è un po' meno, tu hai girato come ho girato io, ovvio, ci sono delle zone dove è veramente il razzismo come dici tu, lo respiri, cioè dovunque, bere un caffè ti guardano male, ci sono zone ancora non accessibili, soprattutto secondo me è più un bianco che va in un posto di un nero, più che il nero che viene un po' su un bianco perché proprio cambia un po' il modo di vivere, quello secondo me è una cosa che è rimasta ancora molto indietro. Prima della parte finale ti chiedo, la città più bella d'America, tanto so già qual è la tua risposta, qual è la più brutta d'America? Quella dove ora non andate lì in vacanza. Sacramento è stata tosta e il resto mi è piaciuta molto Chicago, mi è piaciuta New York, mi è piaciuta Los Angeles anche se poi Los Angeles alla fine vivi a Beverly Hills a West Hollywood non è che sono andato a vedere Compton o altre zone come hai fatto tu e ci sono delle paesi Las Vegas mi piace molto io ho vissuto in modi diversi ma è bellissimo io giocando a poker stiamo diventando italo-americani perché agli italiani dici che ti piace Las Vegas agli italiani proprio Las Vegas fa schifo no? No, Las Vegas invece ha del fascino ovviamente un po' americano ovvio una città nel deserto mia moglie non è d'accordo ma io andrei a vivere come hai fatto te un paio d'annetti guarda, io sono rimasto e continuo a dirlo sono orgoglioso di aver vissuto a Las Vegas prima perché non me l'aspettavo nella mia vita a dire cazzo vai a vivere a Las Vegas e poi sapevo che c'era un inizio e una fine me la sono goduta dal primo all'ultimo giorno e East Coast o West Coast? Penso East Coast e New York la vedi ancora in cima l'Olimpo americano o cosa pensi? New York c'è questo problema io non voglio entrare in politica però c'è questo problema che gli stati dove stanno governando diciamo i democratici ci sono delle leggi assurde che si chiama catch and release quindi ti arrestano e ti rimandano fuori cosa che il nostro governatore non ha fatto e quindi New York adesso è diventata pericolosa vedi San Francisco vedi Los Angeles San Francisco Los Angeles New York città che sono governati da dei governatori più aperti sono città con un tasso di criminalità arrivati ad un livello che non mi sento più sicuro andare in giro per le stade di New York sia che sia giorno sia che sia notte perfetto ti chiedo questa cosa perché io ho fatto diversi video non contro New York ma raccontandolo a New York come la stai raccontando tu vivere in America e vedere New York come San Francisco e Los Angeles proprio cadere secondo me è giusto raccontarlo perché le informazioni che arrivano da New York ovviamente sono sempre molto ha sempre il suo fascino la capitale la capitale del mondo finanziare secondo me è rimasta così anche se adesso piano piano si sta spostando in Florida adesso hanno aperto anche aziende della Silicon Valley che erano legate alla California stanno a prendere Miami proprio per questo sviluppo proprio per questo sviluppo immobiliare che sta succedendo rimane sempre una città super affascinante New York però a oggi anche se io come ti ho detto ho un'agenzia a New York vivo qui a Miami posso operare anche a New York faccio più fatica perché la vedo un po' più pericolosa andiamo alla conclusione allora per concludere partiamo dalla tua targa perché Babbo? Babbo ha diversi significati il primo significato è in Romagna si dice andare a Babbo Morto quando uno prende dei soldi e non le rida più quando morirà il Babbo ah ok quindi dire gratis io ti dico Chris dammi 100.000 euro e te le ridò quando il Babbo muore che è il reddito quindi si dice Babbo Morto quindi questo è nato perché fra amici diciamo viene a Babbo Mio come dire ti invito io vieni a Babbo Mio ok primo secondo tu che sei di Milano sai benissimo cosa vuol dire essere un Babbo quindi se tu mi sei dietro e mi suoni al semaforo chiaro di conseguenza sei un Babbo di quello che è poi mio suocero ha visto adesso che è venuto adesso a trovarmi non si è mai accorto che ho la stessa targa da anni adesso e dice adesso che sei padre hai anche messo la targa del Babbo ah ok ce n'hai una anche per la famiglia io sei un Babbo quindi ha avuto e poi era disponibile quindi un nome simpatico carino simpatico in conclusione tu hai realizzato il sogno americano o avresti fatto qualcos'altro da qualche altra parte allora il sogno americano lo lascio dire agli spettatori perché secondo me potrebbe esserlo ma non voglio essere va bene quindi chiediamo a loro chiediamo a loro ringrazio Ale ci tenevo a raccontare questa storia fatemi sapere nei commenti anzi fateci sapere nei commenti se secondo voi è una storia da sogno americano oppure no grazie ci vediamo al prossimo video ciao